Sarà eseguito giovedì prossimo l'esame autoptico sul corpo di Riccardo D'Aurelio, il 64enne originario di Sulmona trovato senza vita sabato scorso nella stanza del reparto di cardiologia dell'ospedale di Avezzano. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha incaricato l'anatomopatologo Antonio Tombolini d'Ancona per lo svolgimento dell'esame peritale. Il magistrato di turno, come atto dovuto, ha proceduto ad iscrivere nel registro degli indagati l'equip sanitaria che ha preso in carico D'Aurelio durante la sua adegenza. I familiari che avevano chiesto l'intervento degli organi inquirenti per accertare eventuali responsabilità hanno a loro volta incaricato il medico legale Ildo Polidoro come perito di parte e l'avvocato del foro di Sulmona Guido Colaiacovo per gli sviluppi dell'inchiesta. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il 64enne era stato preso in carico la scorsa settimana nell'ospedale di Avezzano per un intervento di chirurgia bariatrica. Il quadro clinico si era aggravato subito dopo l'operazione, tanto che i sanitari avevano deciso il ricovero in terapia intensiva. D'Aurelio era stato poi estubato dopo il miglioramento dei valori clinici. Nel reparto di cardiologia il paziente era stato trasferito per l'osservazione ed il completamento dell'adegenza. Qui due familiari durante l'orario di visita lo hanno ritrovato riverso a terra, ormai senza vita. L'inchiesta della Procura dovrà accertare se il decesso sia legato o meno ad un'eventuale imperizia dei sanitari operanti. Il nulla osta della Procura potrebbe arrivare nella giornata di giovedì, al termine dell'esame autoptico che sarà svolto nel nosocomio del San Salvatore all'Aquila.